Musica Serie C, Gubbio a caccia della prima vittoria stagionale sul campo del Imolese, diretta radio su RGM domenica alle 14.25 Il punto in Serie D, eccellenza e promozione, motori, entra nel vivo il FIA, il Climb Masters di Gubbio, domani le prove, domenica la gara, la parola al presidente ceca Luca Uccellani, rugby Gubbio si riparte con il neozelandese Roden al timone. Buonasera, ben ritrovati con il TG Sport, il calcio, la Serie C in primo piano, il Gubbio domenica nella Tana dell'Imolese per provare a centrare il primo successo stagionale. Sandriani non avrà a disposizione l'infortunato Malaccari, è pronto a confermare il 4-3-1-2 con modulo iniziale davanti al portiere Marchegiani, difesa formata da Schiaroli e Specie, Piccini e Loporto, centrocampo con Ricci favorito su Conti, assieme a Casoli, Benedetti e Casiraghi sulla tre quarti a supporto del tandem d'attacco formato da Marchi e Campagnacci. Arbitro del match Marco Monaldi di Macerata, potrete seguire la partita in diretta live domenica alle 14.25 su RGM Itradio nel consueto appuntamento di Diretta Sport, mentre lunedì sera alle 21 su TRG torna come sempre fuori gioco. La sesta giornata del girone B di C si apre domani con Rimini Teramo, domenica tra le sei partite in programma alle 14.30 spicca l'impegno della Ternana sul campo della Virtus Verona, alle 18.30 sfida al vertice tra Pordenone e Vicenza, mentre alle 19 il Monza è pronto a ricevere la Triestina. In campo domenica alle 15 per la sesta giornata di D il Bastia riceve al Comunale Real Forte Querceta per centrare la prima vittoria stagionale trasferta a Scandicci per il Trestina, mentre il Cannara sarà di scena a Viareggio. Il sesto turno di eccellenza parte stasera alle 20.45 con il primo anticipo tra Sansepolcre e Narnese al Buitoni, mentre domani alle 15.15 si disputa Pontevecchio-Spoleto. Domenica il Clu è ovviamente lo scontro al vertice tra Lame e Foligno, con i bianconeri in vetta a punteggio pieno e Falchetti che inseguono a solo due lunghezze. Angelana Massamartana è la città della Pieve, mentre Fiorucci farà l'esordio sulla panchina dell'Orvietana Pontevallecepi. La Ducato attende il Castel del Piano, mentre l'Assisi Subasio cerca i primi punti contro Sanzisto. Nel girone A di promozione la capolista Tiferno Lerchi riceve il Piccione, mentre il Branca cerca la quarta vittoria consecutiva sul terreno del Montone. Selcinardi a domicilio del Casa del Diavolo, Pietralunghese a Mugnano. Nel girone B derby tra Viola e Petrignano, mentre il Gualdo Casa Castalda sarà di scena a Giove. E parliamo ora di motori, perché è partito oggi con la giornata dedicata alle verifiche tecnico-sportive, il FIA Hill Climb Masters in programma a Gubbio fino a domenica. Domani motori accesi per due sessioni di prove ufficiali con partenza alle 10. Dopo le due ricognizioni spazza la parata e la cerimonia di presentazione di piloti e nazionali con acclamazioni in Piazza Grande all'uscita da Palazzo dei Consoli. La serata proseguirà tra stand, fest e musica in Piazza 40 Martiri e per le vie del centro. Domenica è la giornata decisiva del Masters. Sono tre le salite di gara in programma, a partire dalle 9 alle quali seguirà la cerimonia di premiazione. Previsto il biglietto unico al costo di 15 euro, valido per le prove del sabato e la gara di domenica con prevendite presso lo IAT del Comune. Sentiamo il presidente del Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, Luca Cellani. Tutta l'emozione per aver portato a Gubbio un evento dal sapore internazionale. Sentiamolo. Tutto pronto per partire con il FIA Hill Climb Master di Gubbio. Siamo con Luca Cellani, presidente Ceca. Credo un lavoro davvero impegnativo in questi mesi per portare tale manifestazione nella città dei Ceri. Però credo alla fine anche grande soddisfazione. Poi ci saranno questi tre giorni, però credo la soddisfazione sia già grande. Sì, sicuramente. Guarda, siamo pronti ad accogliere veramente il meglio delle cronoscalate europee. Oserei dire, abbiamo un parterre di piloti, di team incredibili. Avremo macchine spettacolari proprio, veramente da non perdere. Per questo non finiremo mai di ringraziare la FIA che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa manifestazione, questo evento. L'ACI che ci ha supportato, ci sta supportando e tutte le realtà e gli enti locali, naturalmente, partendo dal comune, la provincia, la regione, tutte le associazioni locali, i numerevoli volontari per i quali è stato un lavoro difficilissimo, molto impegnativo e duro. Però questo qua naturalmente ci fa molto, molto, molto onore riuscire a organizzare questo evento che è il top per questi tre giorni. Siamo al volley nella Superlega, cerca riscatto Sir Safet i Conad Perugia dopo la doppia sconfitta in Superlega. I bianconeri sconfitti ieri 3-1 nell'amichevole con Siena, ripartiranno dal Palabarton nella prima di campionato sfidando domenica alle 18 latina. In A2 femminile, Bartocini-Gioielleri-Perugia dopo la vittoria nella gala d'esordio. Cerca il bis a Cutrofiano. Basket in A2 femminile, Pallacanestro Umberti d'attende domenica alle 18 al Palamorandi-Cestistica-Savonese nella terza di campionato in Cigold maschile. Sempre domenica alle 18 scatta l'ora del derby al Palapaternesi tra Foligno e Valdiceppo mentre Perugia riceve al Palafoccià-Matelica. In C-Silver derby tra Frattomberti-Dedassisi mentre Gualdo attende al Palaluzzi-Iesi. In Serie D esordio casalingo per l'Emi-Basket Gubbio che domenica alle 18.15 alla Polivalente duellerà contro Passignano. E chiudiamo con il rugby perché anche se la C2 Umbria Marche partirà domenica 21 ottobre è pronto il rugby Gubbio per recitare un ruolo da protagonista in campionato sotto una rinnovata guida tecnica. Vi lasciamo con questo servizio. Grazie per averci seguito. A voi un buon weekend. Si scalda il rugby Gubbio in vista dell'inizio dell'annata agonistica. Il 15 rosso-blu che affronterà la Serie C2 Umbria Marche avrebbe dovuto scendere in campo già domenica in casa contro Pesaro ma il campionato slitterà di una settimana in seguito al ritiro del rugby Falconara imprevisto che costringerà il comitato regionale a stilare un nuovo calendario. I lupi sono però pronti a gettarsi nella mischia sia in ottica prima squadra che nelle varie formazioni giovanili. La novità principale riguarda l'arrivo del neozelandese Chris Roden tecnico di esperienza trentennale che guiderà i senior e fungerà da coordinatore del settore giovanile. Il tutto sempre nell'impianto da gioco in località Coppiolo in fase di restyling e prossimo a divenire la reale e unica casa dei lupi e gubini. Una nuova avventura diciamo che non è mai finita nel senso che siamo da anni sull'onda dell'entusiasmo e della qualità di questo rugby qui a Gubbio che dà sempre ogni giorno nuove emozioni. Un invito soprattutto a venire a vedere questo campionato di C2 che abbiamo il chiaro obiettivo di essere tra i primi attori. Un invito anche poi per seguire anche le giovanili. C'è un bel gruppo under 18, un bel gruppo under 16 e anche sotto al mini rugby sta veramente facendo un ottimo lavoro. Sono stato qua solo un mese però trovo Gubbio bellissimo come città e abbiamo trovato una bella società con i seniori e anche con i juniori. Serie C è il livello più basso però da cosa ho visto hanno un buon gruppo, impegnano bene e speriamo fare un buon anno. Quest'anno partiamo per questa nuova avventura e veniamo dal campionato dell'anno scorso che abbiamo chiuso in seconda posizione, ahimè, a un punto solo dalla promozione e quindi quest'anno ci riproviamo con tutta la voglia e l'enfasi che questa squadra da anni sta tirando avanti. Siamo un gruppo ben affiatato, i ragazzi ben amalgamati, soprattutto abbiamo dei ragazzi giovani, dei ragazzi un pochino più attempati tipo me e altri. È stato un sogno realizzato questo di poter guidare questa squadra anche perché farò anche d'aiuto allenatore a Chris Roden e insieme a Giancarlo Fiorucci. Abbiamo dei giovani di livello. Partiamo con uno spirito carico e con una grande ambizione, quella di vincere il campionato quindi ci stiamo preparando al meglio, il gruppo c'è e siamo pronti ad affrontare al meglio questo campionato.